Uno, due, tre, stella! Uno, due, tre, stella! Uno, due, stella! Brava! Ho un'idea! Vediamo! Mi sono fatta male! No! Troppo bene! Ho tira in piedi! Presa! 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 Ma mano! Presa! Presa! Stanno scappando con essi bimbi! Presa! 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 Preso tutti! Presa! Lo aspetto! Lo aspetto! Lo aspetto! No! 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 cosa sono che cosa aia che male cosa ne hai fatto quello che fate voi a noi tutti i giorni anche gli alberi provano dolore dovete rispettarci un ramo oggi uno domani voi non ci siamo noi non ci siete neanche voi senza l'ossigeno che noi vi regaliamo dove pensate di andare? chiaro? e la mia mano? te la tieni ma come? ricordati di annoffiarla ogni tanto gli farà bene una patatina se te ne prendi cura potrebbe fare fiori un po' legnosa dovresti dargli un periodo di acqua che ne prendi cura potrebbe fare fiori grazie a tutti grazie a tutti